Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Una delle coppie più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island, è stata senza dubbio quella formata da Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Originari di Napoli, i due avevano lasciato il programma separati, dopo che Alessia aveva visto dei video compromettenti del fidanzato in compagnia della tentatrice Maika. Tuttavia, alcuni recenti movimenti sui social hanno riacceso le speranze dei fan su un possibile riavvicinamento tra i due. Tutto è iniziato quando Alessia ha pubblicato una storia su Instagram, che ha fatto drizzare le antenne ai suoi follower più attenti. Nella storia, la ragazza ha mostrato una boccetta di profumo accompagnata da una busta rossa. Sebbene la lettera fosse chiaramente indirizzata a lei, il nome del mittente non era visibile. Questo ha immediatamente scatenato le speculazioni, molti hanno ipotizzato che il regalo provenisse da Lino, come un tentativo di riconciliarsi. Le speculazioni sono aumentate ulteriormente quando Alessia ha caricato un video su TikTok, in cui appariva in compagnia di Lino su una moto. Il video, accompagnato dalla canzone «Si stat tu» di Géolier, è stato però rapidamente rimosso, alimentando ancora di più i sospetti. Di fronte all'ondata di ipotesi da parte dei fan, Alessia ha deciso di intervenire per chiarire la situazione. Ha negato qualsiasi ritorno di fiamma con Lino, affermando che se fossero tornati insieme, lo avrebbe annunciato lei stessa. Ha anche ribadito di avere una grande dignità e di saperla difendere. Quindi, sembra che al momento non ci sia alcun riavvicinamento tra Alessia e Lino. Quest'ultimo è già impegnato in nuovi progetti, come la sua prossima partecipazione al Grande Fratello. Intanto, i fan di Temptation Island non dovranno aspettare molto per nuovi colpi di scena. La nuova stagione inizierà il 10 settembre su Canale 5. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Grazie